bentornati amici dopo aver mescolato farina e uova impastato lavorato la sfoglia con la macchina della pasta fatto le tagliatelle e lasciate riposare andiamo a cuocerle se non sai come si fanno le tagliatelle all'uovo clicca l'icona sopra video consigliati ti porterà direttamente all'inc per 200 grammi di farina e due uova metto 5 litri di acqua e 5 grammi di sale in una pentola capiente appena l'acqua incomincia a bollire ci immergo all'interno le nostre tagliatelle mescolo e lascio cuocere a temperatura alta mescolando di tanto in tanto dopo circa 5 minuti le nostre tagliatelle fatte in casa sono salite su questo significa che sono pronte per scolare siccome si tratta di ottima qualità non ho bisogno di aggiungere acqua fredda alla pentola scolo aiutandomi con uno scolapasta verso direttamente nel piatto se avete tagliatelle acquistate avete bisogno di più tempo e cioè circa 8 minuti di cottura la dose di acqua e sale per cuocerle sono le stesse alla fine andiamo a condire al nostro gradimento magari spolverando con un buon pecorino nostrano andiamo a mangiare ciao amici grazie alla prossima andiamo a mangiare ciao amici grazie a tutti